Soprovvissuti, bentornati sul canale. Dobbiamo correre. Dobbiamo correre perché abbiamo un grosso, grosso, enorme, gigantesco problema. Ero convinto di avere il miele, ma purtroppo no. Birra, flotto di yucca, infuso di verga d'oro, scotetta per gatti, succo di yucca, acqua d'orbita, birra. Allora, niente miele, niente miele, signori, e questo è un enorme problema perché l'infezione è già abbastanza importante per quanto mi riguarda. Quindi direi di posare un po' di cose che intanto non ci serviranno fondamentalmente, di correre, correre, a cercare del buon miele. Andiamo verso l'airdrop, ma nel frattempo speriamo effettivamente di trovare un po' di ceppi. Ne avevo trovati alcuni, anche nell'episodio precedente, tutti senza miele. Io quando li vedo comunque li spacco perché non si sa mai, però purtroppo ci ha detto male. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Tantissimo. Niente miele. Ma perché? Uh, ecco l'airdrop. Che cos'è? Un fuso di vergador. Uffa. Ho sbloccato i semi di caffè, che culo. E il banco di lavoro! Ho sbloccato il banco di... veramente? Lo sbloccato... sì, vabbè, mi serve una fracca di roba. Più che altro sono i lingotti. I lingotti ce l'ho. Raga, sai che era... in realtà mi sa che lo posso craftare al banco da lavoro? Mi sa che lo posso fare il banco da lavoro, eh. Mi sa che lo posso fare... Bene. Dai, dai, dai. Niente, oh. Niente, non si trova. Mannaggia la miseria, oh. L'imbrunire s'avvicina. Non ci manca solo che magari riesca a trovare miele. Mi curo. Sto fuori di notte e mi ammazzano comunque i zombie. Sarebbe un problema. E invece... E invece no. E invece no. Potremmo... Non ricordo dal venditore quanto costassero... Perché il venditore anche c'ha il miele. Potremmo provare a fare la missione? E magari riusciamo a... A comprarcelo con un vasetto di miele? Potrebbe essere un'alternativa. Forse è l'unica. Sono alquanto disperato. Mannaggia la miseria. Eh, c'è sta artizio lì. Oh! Bene. Sei morto? Sì. Non saprei che fare. Allora, o l'infezione De... De quelli notturni tipo Dei zombie ferali È più veloce. Infezione lieve. Sì. Ma per quanto ancora Sarà lieve? No. Ah, sì. C'è una borsa comunque. Ah, non vedi! Questa è bella roba. Ok, no, raga. Andiamo... Sì, andiamo dal venditore. Andiamo dal venditore. Andiamo dal venditore. Capo. Vabbè. Non ce la voglio credere. Sì. Vabbè, ma... Che cazzo è questo? No, 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 no. Non ci credo. Non ci credo. Non posso essere morto così. Da idiota proprio. No. 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 Vabbè, raga, ma dai, però... Ma perché? C'ho le bende? C'ho ancora... No, non c'ho le bende. Allora, sono respawnato qua vicino perché me l'ho reso conto, tra l'altro, che tutte le mie armi stanno qua. L'alternativa sarebbe usare le armi da fuoco, ma... Eviterei. Eviterei. Andiamo se... Mi serve giusto qualcosina per creare un'accetta, una lancia o qualcosa. e poi recuperiamo lo zaino. Mazza di legno? Possiamo fa... Possiamo fa' la lancia. Mettiamo la lancia. Tra l'altro è tardissimo, è tardissimo, è tardissimo. Se sta a fa' buio. Si mette moooolto, molto, molto male, signori, eh. Non pensavo sinceramente di precipitare sto moto, spaccammi una gamba, attirare ventordici milioni di zombie, tra cui uno molto strano che non so che cazzo l'ora fosse. La specie di zombie che a faccia da predator sembrava. Cattivo, vero, quello? Eh. Cazzo, solo io, io, mooo. Ah. Mi sono sgarato, ma almeno abbiamo ripreso tutto, dai. Ok. Ok. Notte funesta, se trovo... Recog? Che cos'è? non so esattamente che cosa sia. Allora, fammi un attimo una cosa, perché io, questo è meglio del... Eh, sì. Decisamente meglio del mio. ma proprio decisamente meglio del mio. Modifica. Metti questo. Ok. lo butto giù. Pure io, però. Via. Pericolosissimo sto posto. Mammo, dove vado a nascondere? Quello è il problema, sole... morca troia. Questi momi... E dai, fatte via... Oh. Questi momi si vengono a mangiare che è un piacere. che già corri. Non è notte? Eh, signori. Mo so cazzi. Mo so cazzi. Frecce. Tante frecce. 46, buono. Buono. Dove mi vado a nascondere? Non so cos'è quel posto. Qua, raga. Qua. Non so cos'è. Ah, mi sa che è la miniera. No, non è la miniera, non è la miniera. Non so cos'è. Mammo, mi vado a nascondere lì per forza. Per forza. L'alternativa è morte sicura, 100%. se resto qua fuori così. Ma proprio 100% morte. Questa è una casetta. Ah, è la famosa. L'alternativa è qualcosa. The Mo Residence. Qua ci siamo stati una marea di volte. Ci abbiamo passato parecchie notti parecchie parecchie notti. Aspettiamo l'alba. Aspettiamo l'alba, signori. Non mi muovo da qua. Ok, raga. la nottata è andata. Per fortuna. A sto punto io direi 70 metà tanto. No, sono solo sti due. 70 metà tanto. una ma fa missione in miniera. Per forza. Per forza. Tanto. Quello che era il problema principale che c'eravamo non c'è più. Quindi andiamo in miniera. E facciamo la missione sperando che ci dia un bel po' di dei spicci. Tra l'altro attenzione perché domani ci sarà la nuova notte rossa che pizza. Sì. Pensavo arrivassero tipo zombie tutti intorno ma no. Devo entrare dentro. Qua l'ho distrutto tutto nel frattempo. Sento rumori brutti e anche un po' molesti. Quindi sì. Entriamo in miniera. Stamme lontano. Oh guarda questa guarda questa. Da dove arrivi tu? Chi t'ha invitato? Ah ma sulla minimappa me li segna i zombie. Cioè questi da la missione perlomeno. Buono. Molto buono. Non credo siano solo questi eh. No. Non credo che gli zombie siano solo loro. Ce ne so sicuramente degli altri. Mo va capito stanno. Stanno sotto? Sopra? Sopra? Da signorina da dove è arrivata lei? Scusi. Vesti giù va. Guarda un po'. Guarda un po' chi c'è. Allora mi sembra che siano gli stessi. lei c'era anche nella visita che abbiamo fatto con lo scorso gameplay qua nella miniera. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Fini? No non è finita manco per niente. là sotto ci sarebbero le nostre frecce che dovremmo recuperare ma non credo proprio della vita che adesso ci vado. Questa martellata e resta giù. Resta giù. Oh. Il loot è ricom... Oh. Ma è ricomparso il loot? Ma scusa. Cioè o meglio ma è già ricomparso il loot? Che è più più corretto secondo me. Un po' troppo presto no? Ci sono delle cose che devo assolutamente buttare ragazzi. Cos'è? Tintura rossa. Guarda quanto quanto me dà. Questa me la vado a vendere. Questa me la vado assolutamente a vendere. Questa me serve. la sabbia non me serve per ora. Andiamo così. Quanti ce ne sono ancora? Sì. Sono gli stessi che c'erano la prima volta. Loro perlomeno sono gli stessi. E manca giusto il tizio col cappuccio. L'incappucciato scheletrico. Lui è l'unico che non abbiamo ribeccato. Mi sa che ho finito mi dice da salì? No. 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 Mi dice da salì perché mo' devo accoppare gli zombie qui. Beccate ma. Eccolo l'incappuccia. Eh no. Sono proprio loro. Il marito della signora non c'è. Dovrebbe sbucare qui. Ah no. Ho finito. Mi dice torna alla negozia. Però aspetta. attenzione. 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 Buona sta robina. Questo non so se è meglio del nostro. Questo è sigillato. Oh raga. Buono. Loot di nuovo. È un doppio dell'episodio scorso. Praticamente ma con più loot. In breve. Lo prendiamo. Ok. Torniamo da Torniamo dal venditore. De corsa. Torniamo di corsa dal venditore. Vediamo che c'è da. Speriamo un po' di sordi. Speriamo in un po' di soldi. E poi e poi dobbiamo pensare alla luna rossa di domani. Eh sì. Eh sì. Stavolta mi voglio far trovare bello preparato per la luna rossa. E ho in mente qualche idea. Però dobbiamo vedere come va. Oh gli dobbiamo vendere un botto di roba. Ah beh che io sia dannato te la sai cavata in un attimo. Grazie per aver ucciso tutti quegli zombie. Ecco quello che ti dovevo. Mi dà allora mi dà 839 gettoni. Cazzarola. 3000 punti esperienza. Sabono. 39 bonus. Non so per quale motivo ma va bene così. E poi posso scegliere uno di questi. Allora vediamo un po' Sicario. Può creare munizioni high power per una 48 magnum. No. Compensatore. Devi ai gas propellenti per ridurre il rinculo. Munizioni per fucile. 60 colpi non sarebbe male per niente. cassetta degli attrezzi. Allora io direi in realtà di tutta sta roba non è che ci sia roba che mi serve particolarmente però questo qua è quello che mi dà più moneta nel caso che volessi rivendermelo. Quindi io direi che mi faccio dare la cassetta per gli attrezzi e probabilmente noi gliele rivendiamo anche. Allora intanto gli vendiamo questo 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 poi questo servono a riparare tra le altre cose gli oggetti e i veicoli danneggiati. Diciamo che gliene vendiamo tre me ne tengo due che mi pare che a casa ce l'ho anche però per sicurezza questi ah questi si via questi si via questa roba serve a me questo glielo vendiamo questo me lo tengo assolutamente sto bel fucilone e tutto il resto pure me lo tengo che cosa possiamo comprare da lui visto che mo' abbiamo 1800 modifica della luce del metto questo non sarebbe male affatto eh non sarebbe male affatto anche perché il nostro casco ha tre slot di modifica quindi non sarebbe affatto male in alternativa però in alternativa però c'era il discorso dei lingotti perché io adesso posso produrre il banco da lavoro ma no sta roba la lanciate ferro vabbè ebbè ebbè non c'ho i soldi comunque quindi no non la posso prendere i lingotti ci li hai i lingotti non c'hai i lingotti ok allora prendo prendo questa prendo questa per il resto forse non prendo altro ma come non saprei che altro prendere quindi per ora forse mi fermo così ah eccoli i lingotti ma costano una stronzata no insomma costano una stronzata no costano una stronzata proprio no ne prendiamo una decina io ne dovrei avere altri a casa però non so sicuro abbiamo altri 5 dai ok ne abbiamo resi 16 poi al massimo ci si torna perché io ce li ho a casa mi ricordo che ce li ho ok andiamo a casa anche perché così vediamo se effettivamente ho pure i lingotti e poi iniziamo anche a calcolare a valutare vediamo se riusciamo a far subito la il banco da lavoro non me dispiacerebbe i chiodi non ho i chiodi o se ce li ho quelli sono sicuro da avercene pochi lingotto parti ah è pure le parti meccaniche porca miseria parti meccaniche forse qualcosina ce l'ho ma non troppa vediamo se riusciamo a prenderne un po' guardate quelli che dei chiodi chiodi non ce la parti non ce ha né le parti meccaniche né i chiodi ottimo ottimo allora facciamo così avviamo una missione così poi non devono tornare qua qualche lavoro elimina gli zombie recupero recupero questo è più lontano sta a un chilometro facciamo questa di recupero uno dei vostri ha dovuto nascondere la sua carica Sean check perfetto sono anche dove sta quindi probabilmente ci passiamo andando a casa ok andiamo verso la capanna di Sean la baracca di Sean e poi andiamo anche a casa però nel frattempo si riesca a recuperare l'oggetto del desiderio del nostro Joel prendiamo pure quello perché no e poi glielo portiamo ok la capannetta era questa qua a fianco a fianco diciamo vicino casa me la ricordavo andiamo un po' non mi si che mi serve la pala era ovvio che ci sarebbero stati i zombie ah però scusa posso fare una cosa io abbiamo comprato e vaffanculo abbiamo comprato il urca diciamo abbiamo comprato il caschetto quello con la luce vediamo no vediamo allora modifica dov'è eccolo qui spemma vediamo un po' oh mossi vediamo la differenza e dai e su non possiamo andare in giro con un po' più di tranquillità dobbiamo trovare le provviste io non so dove sono comunque ragazzi devo trovare il modo di devo smanettare un po' devo trovare il modo di eccole forse sono queste di allungare le giornate penso di aver sbagliato qualcosa durano troppo poco ragazzi troppo poco non è non è possibile cioè il giorno dura veramente troppo poco io mi ricordo che in vecchissime partite che ho fatto su 7 days to die duravano molto di più le giornate penso di aver erroneamente modificato l'impostazione appunto che regola la durata del giorno perché non è possibile che durano così pochi giorni mi ha le core quasi ma tanto siamo abituati vediamo un po' dovrebbe sta' dentro ah ho capito mi sa che quando c'è una missione che coinvolge un edificio anche se quell'edificio l'abbiamo già visitato infatti viene praticamente azzerato qualunque cosa abbiamo fatto in quell'edificio noi queste cose le avevamo distrutte le finestre le avevamo buttate giù invece mo c'è di nuovo tutto eh magna va vediamo di accedere il più velocemente possibile che significa ovviamente e come ce li stanno tutte ste coperture ce li stanno anche gli zombie ok ho messo ah non è l'unico zombie questo fa dentro eh e lo sappiamo in quell'eprovi veloce veloce però vedi c'è sta cosa mi dà tanto nuovo lutto ogni volta che qua dentro c'è qualcosa signori ahà argilla dicevo sta cosa è figa perché mi dà parecchio loot cioè se ogni volta anche i posti che ho già visitato sono nuovamente lootabili è buono oh vattene per terra allora occhio però perché io qua ad esempio ci ho messo una cesta cesta che adesso è scomparsa quindi se io prendo per sbaglio una missione che oh occhio quasi cadeva una missione che riguarda l'edificio che magari adesso ho come casa dai esci dall'armadio su esci non lo so ormai conosco i nascondichi vostri quando vedo un armadio ci mostra in bocca gli ho sparata a treccia di grazia lei perché non si è ferita mori va a una aiutate sotto ok lo sta attento perché se se metto un piede in fallo me ne vado giù pure io modifiche della fascia a piastre per armatura pugnale d'osso di livello tre ci piace non ho più spazio nell'inventario allora questo se lo maniamo questo lo ah cavolo mettiamo sta piuma mettiamo questo qui questo lo modifichiamo ci mettiamo il pugnale questo lo butto e questo l'equipaggio ok perché ho tolto l'arco apriamo questa solo che non c'ho più spazio nell'inventario non so dove mette la roba che prenderò ah bene bene come si saliva sopra eh bene queste ok allora facciamoci una scaletta stile minecraft salta e costruisce ole beh io il mavo devo fare un po' più difficile che c'è che c'è che c'è provviste di white river eh dove le metto mannaggia ok e le dobbiamo portare ovviamente al venditore cosa che non faremo adesso salve adesso non esiste che torno dal venditore proprio non esiste andiamo a casa piuttosto andiamo a casa e ci fermiamo perché dobbiamo poi prepararci per la prossima luna rossa che sarà domani quindi occhio abbiamo fatto un botto di cose a casa e soprattutto io non ho più vigore cioè sto veramente arrancando perché c'ho l'inventario pieno 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 quindi ragazzuoli io torno a casa e dal venditore ci andiamo probabilmente domani cioè domani nel prossimo episodio dopo aver affrontato la luna rossa detto ciò signori io torno a casa andò la yucca com'è cresciuta andò siamo arrivati in crescita ok piano piano sta crescendo qua dobbiamo fare altre piante qua l'acqua come va raccogliamo raccogliamo bene molto molto bene siamo a casa allora io devo vedere giusto giusto a parte che devo fare altre casse perché qua non c'ho non so concretamente più dove mette la roba non so veramente dove mettere più la roba usiamo il cibo sì ok ah vedi lingotti ce ne ho 23 ah cazzo quelli erano lingotti d'acciaio io ho preso quelli di ferro eh so quelli di ferro effettivamente a me servono quindi in realtà non ho sbagliato non del tutto comunque ragazzuoli noi ci vediamo nel prossimo episodio dove ragioneremo un attimo bene sul come prepararsi alla prossima luna rossa io qualche idea effettivamente ce l'ho e poi dobbiamo portare questa cassa al negoziante ma ovviamente non non lo faremo subito finché almeno non so la notte rossa perché voglio concentrare su quello visto che considero che sarà la terza notte rossa e probabilmente sarà anche un po' più complicata o almeno spero ragazzuoli noi ci vediamo alla prossima buona salvivianza a tutti ciao ciao